Showtime, Showtime, ora inizio Showtime, Showtime, Showtime Ehi, buongiorno E' sfinta a mangiare i pasticcini che sono buoni Ma questa cosa è assurda È assurda Questa è la cosa più bella, vedi? Devi fare sempre così, avanti e indietro, questo rende la telecamerina telecamerina Ok, ok Buongiorno a tutti, benvenuti alla quarta e ultima puntata del podcast di Showtime Questa quarta puntata è dedicata a un brano che si intitola Dove te ne vai? Vieni qui, ok? E' insieme a me Daniela Collu, un applauso a Daniela Collu, grande scrittrice, presentatrice, blogger, divulgatrice, autrice televisiva, radiofonica, speaker radiofonica Un sacco di cose E in ultimo influencer nel senso etimologico del termine Cioè io le cose che tu dici proprio mi influenzano Ah E quando magari sai delle cose più di me voglio starti dietro, capito? E in quello credo che è la cosa più nobile anche dell'influencer, no? Tra i vari aspetti Sì, diciamo che forse è la cosa da cui tutto nasce, nel senso che uno si ritrova poi a farlo anche dal punto di vista commerciale quel lavoro lì Perché capisce, riconosce di riuscire a parlare con le persone Io in tanti anni di marchette, di adv, di hashtag e cose varie Devo dire che le cose su cui ho più influenzato le persone sono andare a fare il cammino di Santiago Andare ai concerti da soli e andare in analisi Queste sono le tre, proprio i capisalti della... Sì, sì No, no, però anche un po' di truccia, ti assicuro pure cose commerciali, funziona Perché proprio uno ha quella fiducia, vabbè Ho deciso di invitare l'esimia Daniela Collo per questo brano Perché, a differenza degli altri brani di Showtime, questa canzone è una canzone che parla, e io lo faccio veramente poco nelle mie canzoni, di amore È vero, tu lo fai poco Pochissimo In realtà poi c'è un amore per la vita Sì, però è presa dalla... Sempre molto laterale È vero Ho scritto poche, poche canzoni d'amore, alcune sull'amicizia Sì Però questa è una delle poche, proprio, capito, sull'amore Eh sì, qua riempie tutto Qua riempie tutto Però devo ammettere che, va bene, l'amore, l'amore, nelle canzoni si parla, anzi, fin troppo d'amore Forse è anche uno dei motivi per cui ne scrivo poche, perché dove mi giro, mi giro, c'è una canzone d'amore Sole cuore amore Sole cuore amore E, essendo io una cantautrice, il punto di vista è sempre quello, no, scrivo da un corpo femminile Perché è dal, no, dal mio, dal mio punto di vista E quindi, niente, questa canzone è uscita così, è una canzone disperata Io auguro a tutti nella vita, auguro a tutti di perdere la testa, di diventare idioti, cioè di conoscere qualcuno che sia una sera al bar, che sia in una vacanza E perdere la testa E anche per una notte sola, anche va bene, perdere la testa, vuol dire, no, vabbè, c'è stato un incontro, no, alieno Quindi penso che perdere la testa sia giusto e che alza l'asticella Eh sì Alza l'asticella del dire, ok, allora esiste un tipo di amore così Però poi in questa canzone si parla del fatto che bisogna poi però avere, come dire, le antenne drizzate per capire quando una cosa poi è meglio, come dire, salutarla E questo tema della separazione è una cosa che tu racconti spesso, no, appunto quanto è meglio stare da sole, il cammino di Santiago Quindi volevo chiederti, innanzitutto se ti è mai successo di perdere così tanto la testa, ma anche di rimanerci dentro troppo a lungo Credo tutte le volte Tutte le volte Io probabilmente ho questa visione così salvifica, ma anche neutra, cioè per me la solitudine è il grado base, è il livello zero dell'esistenza Proprio perché le volte in cui mi sono innamorata, sono state tante, io ho 41 anni, ma ho avuto grandi amori, non ci credo che esista un amore solo nella vita È il pensiero più triste, limitante e proprio misero, miserabile che mi venga in mente E quindi avendo avuto questi grandi amori è come quando ti prendi una droga psichedelica Cioè tu improvvisamente capisci che hai vissuto un livello di coscienza, ma che stai usando il 3% del tuo cervello, no? Con l'amore è la stessa cosa, cioè tu, un po' mi odio quando dico queste cose perché mi piacerebbe invece riuscire a raccontare un'esistenza così esplosiva, no? E gratificante anche di per sé, però non credo che esista un'esperienza più rivoluzionaria, più creativamente rivoluzionaria dell'amore Ti interrompo subito, nel senso, quando dici l'amore, l'esperienza più rivoluzionaria, però dillo sinceramente, stai parlando di una porzione piccola così, di tempo proprio Ma so sei minuti, ma quanto durerà? Eh esatto So cinque minuti e mezzo Cinque minuti Ma certo Ok, quindi lo auguriamo a tutti, nel senso un po' più di cinque minuti Lo sai da cosa dipende? Da quanto tempo ci metti a riraccontarti? Cioè l'amore è quella roba per cui tu sei nuovo, parliamoci chiaro, perché è bello l'amore? Perché tu ricominci da zero e ti puoi ricucire Ogni mattina dici? Ma no, ma anche proprio finché l'altra persona non ti conosce, finché l'altra persona non ti ha scelto davvero, finché l'altra persona non ha riconosciuto ogni singolo frammento di meraviglia che può trovare in te E tu ogni giorno se lì dici, oddio mio, ma quest'opera d'arte vale ancora di più, guarda quegli occhi che mi guardano Però in realtà anche in una storia lunghissima questo discorso può valere Non è che a un certo punto si esaurisce Perché, anzi, è proprio il segreto del qui ed ora Il segreto del qui ed ora in qualsiasi cosa, non solo, credo, nelle relazioni Come dire, essere interessato, essere curioso, vivere con pienezza È una cosa per cui io mi sveglio la mattina, vedo, nel mio caso, Francesco che si stiracchi e dico Chissà, oggi, cioè veramente avere fiducia che sarà diverso anche quel giorno Però la fiducia e la meraviglia sono due cose diverse Cioè, mi rendo conto quando la relazione è partita già da un po' Che io voglio maneggiare tutto quell'amore lì E invece, nei primi cinque minuti e mezzo, sono strattonata, sono stravolta, sono sconvolta Perché chi cazzo è questo? Da dove è uscito fuori? Sì, però quell'allora sono troppo cinque minuti, troppo corti Eh sì, vabbè, l'amore e l'innamoramento sono due cose diverse, no? Poi l'innamoramento è un traino gigantesco E poi uno vuole che tutta quella portata lì, la cascata lì Funzioni per riempire il letto del fiume E quello è, ci proviamo tutti, a volte ci riusciamo Secondo me, e in questo poi rispondo alla tua domanda iniziale Cioè, certo che mi è capitato di ritrovarmi poi davanti a un amore sconvolgente E dover dire, è andata, ciao Qualunque cascata può diventare fiume Qualunque fiume in un'estate molto torrida Si può asciugare Senti, ti volevo dire una cosa Cioè, forse anche, insomma, condividere con te questa cosa Ora sono in una relazione stabile Ma quando ero più piccoletta, che facevo di cotte e di crude Te lo so, Margherita Eh? Ti ricordi? Insomma, l'ex dogana ti dice qualcosa Ma l'ex dogana credo che dica qualcosa All'85% degli romani Salutiamo gli amici dell'ex dogana Mi capitava una cosa terribile Cioè, se uno mi piaceva tantissimo Io mi disperavo ancora prima E magari mi diceva Usciamo a cena o facciamo qualcosa stasera In poche parole Io impazzivo di... Cioè, mi facevo dei pianti Ma dei pianti Di paura perché io dico Vabbè, ma tanto questa cosa Che la voglio talmente tanto E mi piace talmente tanto Io so che non andrà bene E quindi io mi piangevo le lacrime prima Ah, preventiva? Quindi io scendevo Proprio in ascensore Proprio l'ultima... L'ultima soffiata di naso Mi asciugavo tutte le lacrime E chissà con che aurea intorno Andavo poi a cena fuori Ovviamente poi andava... Cioè, insomma, sì, c'era qualcosa Ma era tutto sfasato Quindi la cosa che ti chiedo È veramente, come dire Quando ti dice la solitudine Che è il nostro stato primordiale Cioè, veramente allora L'amore dipende solo da come ci sentiamo noi In quel momento Perché io me le friggevo proprio le cose Cioè, me le piangevo ancora prima di viverle Io credo due cose rispetto a questo tema La prima è che Sempre, qualunque relazione Funzioni con Due universi che si incontrano Non si crea un terzo universo Io non ci credo che si crei un terzo universo Beh, se si fa un bambino È un altro universo È un altro universo Capito? Però è un'altra cosa È staccata da te E questa roba di due corpi e un'anima Secondo me No, perché Ci ha fregato parecchio Perché la questione qual è? Che tu sei comunque tu E quindi tu probabilmente In quel momento della tua vita Portavi in dote la tua disperazione Questa è la seconda cosa Cioè, tutte le volte che noi arriviamo In una relazione Tutte le volte che noi La vogliamo una storia d'amore Poi in fondo Che cosa gli stiamo portando? La nostra sicurezza La nostra insicurezza Il nostro entusiasmo La nostra paura di rimanere soli Il nostro desiderio pazzo Di fare avventure Il nostro desiderio pazzo Di mettere radici Di stare in famiglia Vogliamo cercare radici Che non abbiamo avuto? Vogliamo cercare approdi Che non avevamo sperato? Cioè, tutte le volte che tu Te piace una all'ex dogana E dici Beh, sai che questo comunque In fondo La spinta, no? Che ti tiene dritta la schiena E ti fa rimettere quel rossetto Al bagno chimico Ma in fondo Ma che cos'è? Cioè, tu perché ti vuoi innamorare? Secondo me ci sono due grosse squadre Ah, vai Ci sono quelli Che si innamorano E quelli che vogliono essere amati Eh, beh, c'è Cioè, sono proprio queste due big team E poi Assolutamente d'accordo E poi, diciamo, si parte da lì Cioè, come dire È proprio il polo più o meno Cioè, il polo positivo o negativo Poi è ovvio che si crea una carica Che ha una sua Come dire Che poi soddisfa entrambi gli opposti Però, secondo me Eh, come dire Ci sono proprio delle tipologie di persone Ma non solo Poi ci sono quelli che si innamorano Perché l'amore li Li Ingrandisce, no? Li arricchisce Io dico sempre Io una volta Ero giovane E avevo formulato questo pensiero E mi sembra una cosa più calzante Ancora a distanza di anni Cioè, io mi vedevo le mani più grandi Cioè, ero innamorata di quest'uomo E io mi guardavo le mani e dicevo Ma sono più grandi Non è possibile Mi sembrava di aver fatto E per toccarlo meglio Non lo so Mi sembrava di aver fatto Lo scatto di crescita dei neonati Sai quando dici Vi hanno preso un decimale Non lo so Cioè, mi sembrava di essere diventata Con le spalle più larghe Con gli occhi più grandi Non lo so Mi sentivo gigante Gigante L'amore mi ha reso gigante E poi ci sono quelli che dicono Nei suoi occhi Io mi vedo gigante E quindi È un gioco di specchio È un gioco di riflessi Ognuno di noi Spera di essere La versione un po' migliorata Un po' più Figa Un po' più luminosa Un po' Sì Dicevo Vede in me cose che neanche io vedo in me Da paura Io che vedo in me Che so Presuntuosa Permalosa Sì Instabile Incoerente Arriva uno mi dice Sei meravigliosa Ma guarda Ma guarda Grazie Staremo insieme per sempre Te posso dire Già che mi distogli da me No no ma infatti Anch'io io mi sa che sono più quel tipo di Ma mi ami Mi ami Grazie Guarda forse Mi ami Va bene Ma sei sicuro che mi ami Perfetto Inizio Ad amarti Ah io faccio il contrario invece Ma io ti amo Ma vedi quanto ti amo Ma ti pare che non mi ami Guarda quanto ti amo Ok Tanto è quello eh Allora ripartendo dall'immagine Di due universi Che mi piaceva molto Che è vero No io anche penso che In effetti se poi si crea una fusione totale Ecco il famoso rapporto a specchio Cioè uno qualsiasi cosa fa L'altro lo fa E quindi alla fine poi È ritornare ad essere soli E annoiarsi in poche parole In questo caso particolare La protagonista diciamo di questa performance E quindi di questo quarto brano di Showtime È come dire Viene un po' evocata una figura di una diva diciamo Con due ancelle che la sostengono Che sono amiche amiche ma amiche fino a una certa Perché sai quella labile Quell'abile confine Tra le persone che lavorano con te e chi ti vuole effettivamente bene Ora è brutto detto così Ma è una cosa che purtroppo esiste da sempre no? La protagonista di questa canzone invece perde totalmente la brocca Cioè impazzisce Nonostante Nei Ritornelli debba mantenere una liur da diva Perché deve cantare una canzone d'amore In realtà poi nelle strofe sta impazzendo E cos'è che la fa impazzire? È questo invece vedere che c'è un universo Mi immagino una specie di palla infuocata Con cui lei vorrebbe invece prendere fuoco Che invece le leva attenzioni Si sottrae e se ne va Questo credo sia il tema fondamentale Di qualsiasi relazione d'amore Veramente il sapersi separare Per non parlare della questione maschile Cioè che magari come viene affrontato anche dai due diversi sessi Io credo che sia ancora prima un problema d'incontro E poi un problema di separazione Perché se nell'incontro tu pensi che Poi arrivi il Big Bang Cioè che in questa cosa poi appunto Si crei una entità parallela Che siamo noi E quindi tutto quello che Esula, tutto quello che fuoriesce da quel noi Non ha più ragione di esistere Quindi non ha ragione di esistere io da sola Non ha ragione di esistere io e gli altri Io e la famiglia Io e gli amici Io e il lavoro Io e la soddisfazione Se tu concepisci la relazione soltanto come una dimensione di coppia Il resto del mondo scompare E per di tutto E quindi c'è un terremoto Ti trema la terra sotto i piedi Ti trema la terra sotto i piedi la prima volta che quello esce da solo O che lei va a lavorare per tre giorni lontano Ci sono coppie in cui trema la terra sotto i piedi E quindi quando si sposta uno sguardo a tavola Si veramente Si crea una spaccatura Immagina di proprio un geyser Cioè una roba orribile di energie represse Se tengo il telefono in mano Quello noi ci dobbiamo ricordare In questi tempi soprattutto si parla tanto di matrice Perché se tu li analizzi tutti questi comportamenti Che sono comportamenti individuali Ma che poi in questo patto tacito dell'amore Cerchiamo tutti di riportare nella coppia E l'altro ti ama E quindi ti dice Sì facciamo come dici tu E questo è il contagio peggiore che possa accadere Cioè portare il proprio dolore La propria paura La propria visione del mondo monodimensionale In una relazione a due Invece di farsi spiegare il mondo dall'altro Dire da oggi si fa come dico io Quella roba lì Nella parte Nella versione più difficile Più sofferente Dolorosa E pericolosa È la violenza È la sopraffazione È il controllo È quel desiderio di mettere talmente tanti paletti Che ovunque ti muovi o ti veda Ed è la negazione Cioè si arriva a negare completamente l'assunto di partenza Cioè stiamo insieme per stare bene Io e te Ti amo Esatto Voglio che tu sia felice Ma in realtà se poi torni indietro Anche gridare Dove sei? Vengo dove sei? Dove te ne vai? Io vengo Impazzisco se non mi dici dove sei Che è invece romanticizzato Perché sono duemila anni Che se rompiamo i coglioni su sta cosa Che l'amore vero è quello che ti fa piangere L'amore vero è quello che ti rende geloso L'amore vero è quello che ti ossessiona E ti fa perdere la testa Quindi anche proprio nella narrazione Noi siamo abituati a leggerlo un po' di rosa Un po' di passione In questa perdita invece di certezze di controllo Che probabilmente poi noi siamo nell'onda Cioè forse questo è proprio il momento storico In cui la stiamo cambiando questa narrazione E quindi ancora siamo un po' spaisati Però io spero che tra due generazioni Si saprà stare insieme veramente Non uno nell'altro Uno diventando l'altro Ma insieme Cioè io faccio il mio pezzo di strada Tu fai il tuo pezzo di strada Ci teniamo la mano Guarda ci sono anche tantissime donne Che si sentono molto valorizzate Da questo desiderio di controllo È pieno Se tu vai su TikTok oggi Si È pieno di Se non è così non lo voglio Come per dire Se non è così geloso Se non è così controllante È incredibile Ma è già una reazione a quella cosa di cui stavi parlando prima Cioè che magari sta iniziando a cambiare qualcosa E già c'è la controreazione a quello Eh sì perché Scusami Il malessere Che hai detto? Il malessere Cioè chiamare il fidanzato il malessere Chiamare il fidanzato il mio malessere E qui io cerco il malessere Cioè ci rendiamo Cioè c'è un trend su TikTok dove chiamano il fidanzato il malessere Ma quanti anni hanno questi ragazzi? Eh variabili Ci sono infiniti contenuti Con screenshot delle chat di Whatsapp E io che fortunatamente adesso uso tutta questa tecnologia Delle videochiamate Del visualizzato con l'orario Cioè c'è comunque c'è un potenziale di controllo enorme nella tecnologia no? Puoi veramente capire dove sei stato ovunque Perché ti taggano Perché ti geolocalizzi nei posti Perché se ti dico che sono andata in un posto Invece sono nell'altro Magari finisco nell'Instagram story di qualcuno E tu mi vedi Cioè comunque tradirsi è un po' più complicato oggi Ma in generale L'utilizzo della tecnologia come strumento appunto di Un po' di sopraffazione e di controllo Io sono contentissima di scoprirlo adesso a 40 anni Perché se ce ne avessi avuto i 20 probabilmente Non te voglio di che mi sarebbe comunque capitato un fidanzatino che mi diceva Perché eri online a luna di notte quando mi avevi detto che andavi a dormire E tu non puoi vivere così Nessuno può vivere così Quindi se in più intorno a questa cosa Noi costruiamo il trend E quindi lo rendiamo un contenuto virale È legittimato Cioè tu stai dicendo al mondo Che se tu anche stai provando quella cosa lì Ci si può scherzare online Può diventare normale Può essere una cosa identica a 15 secondi dopo una ricetta di cucina 15 secondi dopo un tutorial di trucco 15 secondi dopo la foto di un tramonto No Non so come dire no Io per esempio nel libro parlavo di queste cose rispetto alla musica Cioè noi siamo passati da Mi sei scoppiato dentro al cuore all'improvviso Io ti ho visto e da allora tutto è cambiato per me A Tommaso Paradiso che dice Faccio ancora la moca per due Cioè il racconto dell'amore Di questa cosa che io non riesco a lasciarti andare Si è diventato minimal Si è ridotto all'osso Per cui io per dire che mi manchi Maledetto it pop italiano Maledetto L'it pop Che ci ha tolto l'amore grandioso Però è così no? Quindi cioè Dammi quello In un video indie Tu una roba così gridata Non la trovi No Però magari c'è il Dettaglio inutile Di lui che allunga la mano Sul cuscino di lei Ok? È tutto molto più sussurrato Questa cosa succede Perché Noi abbiamo imparato A fidarci meno delle parole Cioè questo la psicologia ci ha insegnato A fidarci molto meno delle parole Molto meno delle dichiarazioni Abbiamo visto tutti che l'amore finisce Perché abbiamo tutti i genitori divorziati Separati in crisi No? Siamo stati tutti traditori e traditi Cioè abbiamo Ci siamo concessi anche di provare Molti più sentimenti all'interno dell'amore Che non fosse ti amo non ti amo In tutta questa cosa ovviamente Il castelletto di carte del Mi si è scoppiato tra il cuore All'improvviso Ha cominciato un po' a traballare Sì E diciamo che se proprio devo scegliere Magari è più Se telefonando io potessi dirti addio Ti chiamerei Allora in quel senso Cioè mi acchiappo più No? Delle certezze sul fatto Che l'amore possa finire Però Se invece A queste ragazze Tu puoi dire Il gesto plateale esiste Perché tutte le influencer Si fanno la proposta di matrimonio Con tutte le telecamere puntate E poi quella roba va su Instagram Perché il gesto plateale? Poi nessuno sa se si amano oppure no Sì infatti Però se Fedez si è in ginocchia Davanti all'arena di Verona Quello è E allora poi Se la narrazione torna a essere quella Qualunque gesto plateale Di tu sei mia E a queste le piace Non puoi negarglielo Però sì Un conto è Già sapere Che sarà Che rimbalzerà negli occhi E quindi nelle No? Nel Anche nelle vite private Di tutti i telespettatori E un conto è fare invece I gesti plateali Come questo cuscino Ti amo O come Che ne so Il mio fidanzato Che mi accompagna alla stazione E poi per mettermi in imbarazzo Urla Magherita ti amo Così Che trovo stupendo Bellissimo Che ancora adesso Dopo sette anni Mi urla Magherita ti amo E tutta via Marsala si gira Bellissimo Posso dirti Sei pazza E non hai mai pensato Di fare un video E metterlo su Ticac Così sotto Schiere di adolescenti Se non è così Non lo voglio Nel senso Il gesto plateare Il mi si è scoppiato Dentro il cuore Cioè queste cose così Esistono ancora Ci sono Però Come dire Un conto è Godersele anche solo per sé O un altro è Come dire Ultimamente Ho letto Una tua riflessione Sul mezzo social In generale Su questo specchio Appunto Uno dei temi Anche toccato Nella canzone O almeno Nella performance È questa Volontà Un po' Di rendere La sofferenza D'amore Un po' Alla mercè Di tutti È da sempre Che esistono Delle grandi dive Su cui si è marciato Ancora Molto di più Sulla loro sofferenza Che sul loro talento Pensa a Marilyn Monroe Ava Gardner Ma Hillary Blasi Ha sbancato Netflix Cioè l'idea Che un po' Perché te li rende Secondo me più vicini E quindi C'è il palco C'è la ricchezza C'è la fama C'è la popolarità Però comunque Stai a piangere Corgelato sul divano Con le amiche due Che ti dicono È uno stronzo Esattamente come facciamo noi E quindi un po' Quello te li rende più vicini E un po' Perché invece Diventano paradigmatici Illuminami su Annox Annox Secondo me È rivelatoria Di tantissime cose Ricordiamoci Che uno che ha detto Dimmi 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 Che senso ha Dare amore A un uomo senza pietà Uno che non si è mai sentito Finito Che non ha mai perduto Poi con quella voce lì Dimmi 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 Che senso ha Che senso ha dare amore A un uomo che non ha mai perduto Guarda che questa è la cosa Di cui parlavamo prima Cioè pensarsi Imbattibili Pensarsi irreprensibili Pensarsi eterni È quella roba Che poi quando ti scontri Con la realtà E l'amore non è eterno L'amore non è imbattibile L'amore non è irreprensibile Il desiderio dell'altro Non lo è A te ti ammazza Non è come dice Giovanni Truppi L'un per cento amore Il resto è stringere i denti È questo Però stringere i denti Anche per soddisfazione Certo Non di fatica Però lei rispetto All'essere artista Dice La mia vita è questa qua E un'altra dentro Non ci sta Questa vita siete voi Questo cuore immenso Che solo se ci penso Già sento tesa l'anima Cioè lei dice Io la mia vita è Scambio l'alba col tramonto Mi sveglio tardi nei motel È questo palco È in questa vita Che è la vita di un artista Che sta dando tutto al suo pubblico Un'altra dentro Non ci sta Cioè lei non si poteva innamorare Anna Scusaci Ti dovevamo amare di meno No veramente Però Perché magari Oppure è felice così Sì Però Bello come in una canzone Vedi il bello delle canzoni Infatti sono delle poesie Riescono proprio a A mettere il succo profondo Del significato Infatti Anche Tutto il nostro amore Era scritto Era un disco Io ti giuro Con un disco scritto Che non è mai uscito Di quel periodo Non lo vuoi far uscire? No Poi ci sono pezzi Che ora hanno trovato Altre strade Uno lo sta usando Per una cosa Però è incredibile Come Nelle canzoni C'è un sacco di verità Tantissima Forse l'arte serve a quello No Cioè a dire Se te la dico Per come il mondo La può recepire È troppo E invece Gli do una veste Che sia Scelgo una giusta posizione Di 6-7 paroline Che ti creano La frase Comunque mi interessava molto Quel discorso Sul lit pop Diciamo Perché io penso Che nel lit pop Che appunto Ha un pochino Come dire Impallidito Alcune No Un pochino Abbassato un po' I toni Secondo me Abbassato un po' I toni Di No Perderò Capito Che sicuramente È una questione Anche solo Formale Di musica Che si evolve Però è anche Poi umana Di umano Che cambia E quindi Questi anni dieci E questi pop Hanno un po' Secondo me Alcuni Attratti Impallidito La faccenda Il punto di vista Sull'amore Ma soprattutto Hanno fatto Soprattutto La musica italiana Veramente Un po' Troppo Sbilanciare Il punto di vista Maschile Ecco Io questo Lo devo dire Proprio senza riserve Nel senso Tante canzoni D'amore Tante Viste Dal punto di vista Maschile Poi ogni uomo Con la sua Come dire Visione del mondo Però Sempre Sempre di donne Quando poi Senti le parole Analizzi le parole Di una tipo Anna Oxa Senti quanto Io penso sempre Che nel punto di vista Di un artista femminile C'è comunque qualcosa Di 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 Interessante Da ascoltare E che poi Se ci pensi Invece È anche strano Dal punto di vista Proprio storico Perché invece Le donne Hanno sempre Se scrivevano Scrivevano I sentimenti Cioè non è che Scrivevano Romanzo storico Parlamosi chiaro Molto di meno Magari scrivevano Lettere d'amore Quindi in quel senso Lì Noi siamo Pieni Di punti di vista Femminili Letterari Il problema è che Il punto di vista Femminile È sempre un punto di vista Che si è dovuto adattare Per trovare Microfono e voce A un mondo In cui la narrazione Era quella maschile E non ultimo TikTok Capito Quindi Ne parlavo una volta Con Con la pesce di Martino Li ho intervistati Proprio su questa cosa Cioè sul fatto che Probabilmente Questi anni Proprio Gli ultimi 4-5 anni Che sono gli anni Non so Di Venerus Sono gli anni appunto Del cantautorato Di Con la pesce di Martino Sono gli anni di truppi Sono anni in cui La fragilità maschile È meno strumentalizzata Mi sembra più sincera Mi sembra che non sia Soltanto una dimensione interiore Che viene raccontata Per dire È finito l'amore Non è finito l'amore Ma è Io lavoro per non stare con te Cioè Io non ci so stare In questa storia Non sono in grado Di ritrovarmi Una volta Tu sei arrivata in studio Dal mio fidanzato Da Frenetic In studio Da Frenetic Orange Perché dovevi fare un pezzo Con Vipra Ed era il giorno In cui era uscita La canzone nostra Sì Quindi Salmo Blanco Produzione Mace Meravigliosa canzone Meravigliosa In cui all'inizio Lui dice Non sento più La tua aggressività Che mi culla Un ragazzo Così giovane Che parlasse Di quanto L'aggressività Può essere invece Un abbraccio Guarda che è una roba matta E tu mi hai risposto Blanco amore Ma chi è tua madre Perché Se tu Senti un uomo Parlare del fatto Che l'aggressività E quindi Questa forma Di prepotenza Di sopraffezione Per lui È una culla Sì Poi chissà cosa Intendeva lui Poi è ovvio Che in una canzone L'interpretazione c'è sempre Però Pensano A quanto sia Un'apertura Uno spiraglietto Su una stanza Che in quel momento Era stata chiusa Della psiche maschile Ma infatti è vero Penso che in questi ultimi anni Si sia un pochino Sciolta un po' La squadra di calcetto È come se Hanno un po' Nino non aver paura Come dire Appeso le Forse si abbracciano In questo spogliatoio Un ragazzo si farà Esatto Si abbracciano un po' Di più In uno spogliatoio E Detto questo Boh Mi sa che Io figurati Con te parlerai per ore ed ore Questo foglietto Che non ho mai Consultato No detto questo Daniele Io ti ringrazio Continuerò sempre A tenere la tua voce Come faro Perché Penso che il cambiamento Arrivi anche appunto Dall'ascoltare Le persone giuste Quindi si creano Dei piccoli cambiamenti Nella vita di ognuno E niente Grazie Grazie per quest'ultima puntata A un certo punto A un certo punto sboccia Quindi Infatti no L'ho reinterrato Ma ora sta già Ricrescendo Grazie a te Grazie 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 E di che Niente Ti perderei questa puttanesca Ma magari Facciamo un'altra cosa Il maglione Grazie Ciao Ciao Cristian Non molla Tirano la delegamenta Cristian Cioè Sei tornato Dove Girovi Ah però No Lo faccio Non è un po' Non è un po' Non è un po' Non è un po' Ciao Grazie Basta Stop Mi giuro Non capisco Qual è il momento In cui lo fate Guarda Mi piace Termerai Dimmi Tutto Pure la testa Non c'è No Toggio Testa Mago Giusto Dove Tene Voi Dimmi Quando Dimmi Dove Vengo Anch'io Posso andare Ho il permesso Vero Dio Sono Grande Abbastanza Vado Anch'io Ma Se Tornerai Se Ritorni Se Allora Torni Resto Qui Se Un bugiardo Oggi È Solo Lunedì Non Importa Perché Io Ti Vieni 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 Qui Vieni Dove Vuoi Io Ti Aspetterò Lì Vieni Qui Vieni Qui Vieni Quando Vuoi Tu Quando È Meglio Per Noi Tutte Quelle Volte Che Mia Madre Ripeteva Te L'aveva Ditto Senta Ancora La Tua Voce Che Mi Dici Mettiti Il Rossetto Non So Io Non Capisco T'ho Perso Ora Impazzisco Tutto Il Nostro Amore Era Toscritto Era Un Disco Vediamoci Stasera Un Cinema Una Cena Fai Come Mai Voglio Solo Restare Con Te Vieni Qui Vieni Qui Vieni Dove Vuoi Io Ti Asperterò Lì Vieni Qui Vieni Qui Vieni Quando Vuoi Tu Quando È Meglio Per Noi L'ha Capito In Un Minuto Che Parlarsi Serve A poco Ma Guardarsi Da Vicino È La Parte Più Bella Del Gioco La Musica Sparisce Quell'odore Intanto Cresce Siamo Qui Da Solo Un' Ora Il Ricordo È Già Memoria Vieni Qui Vieni Qui Vieni Dove Vuoi Io Ti Aspetterò Lì Vieni 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 Qui Vieni Quando Vuoi Tu Quando È Meglio Per Noi Vieni Qui Vieni Qui Non Tornare Mai Più Forse Meglio Per Noi Vieni Up D Noi Grazie a tutti. Grazie a tutti.